Ciao Alex, partiamo con l'intervista. Il dribbling più bello mai fatto. E ci vedresti oggi sulla fascia? Il segreto della tua traiettoria a giro? Qual è la tua giocata preferita? Cosa diresti al tuo miglior avversario? Ultima domanda, muoviola o bari? Pronto Alex, ci siamo detti tutto? Beh, direi proprio di sì.